Federica Panicucci è al centro di diverse voci sul suo futuro a Mediaset. Adesso forse siamo arrivati alla decisione definitiva sulla conduttrice, come riferito da Alessandro Cecchi Paone. Infatti, intervenendo a Nuovo TV è stata fatta una domanda diretta al giornalista che ha dunque rotto il silenzio sulla presentatrice di Mattino 5. Quindi, su Federica Panicucci è stato rivelato qualcosa di importante, inerente il futuro a Mediaset Cecchi Paone non ha fatto troppi giri di parole, infatti è andato al fulcro del discorso e ha detto la sua sulla conduttrice di Canale 5. Momento importante per lei, decisivo per la sua carriera, visto che ormai dovremmo sapere con esattezza ciò che farà. Rivolgendosi al giornalista, una lettrice di Nuovo TV ha chiesto spiegazioni su Federica Panicucci e il futuro a Mediaset, secondo lei c'è il rischio che Maltese prenda il suo posto anche in autunno o è solamente una sostituzione estiva? E Cecchi Paone ha quindi fatto sapere se Dario Maltese sarà temporaneamente protagonista o se prenderà il posto della collega. E Cecchi Paone ha risposto, da ormai diversi anni che la versione estiva di Mattino 5 viene affidata a conduttori diversi, è un modo per confermare il crescente successo della formula, facendo riposare i titolari, che nessuno mette in discussione. Quindi, Federica resterà saldamente al suo posto secondo il giornalista, così come l'altro collega Francesco Vecchi. Quindi, dopo la fine dell'estate Federica Panicucci ritornerà a fare compagnia al pubblico di Mattino 5. Questa almeno è la previsione di Cecchi Paone, che è stato ospite anche di questa trasmissione in passato.